Rocab contro favorita U6000 che sta correndo davvero molto molto bene, viene da una serie di ottimi piazzamenti anche in contesti più impegnativi di questo, 9,89 sulla stessa linea Under the Sun, 9,71 cavallo che sta alternando cose buone ad altre meno buone è stata un po' la sua caratteristica in carriera, non è stato mai un cavallo di grande continuità Sì questo è vero, però diciamo che non ho avuto mai fortuna di recente, sempre in seconda fila, vedremo se magari in prima fila potrà trovare quella continuità che tutti ci aspettiamo Oggi torna in seconda fila, staremo a vedere, comunque abbastanza seguita il gioco, 1,39 al momento la quota di Urania B, tutto è pronto, si va in partenza Seconda corsa di Palermo, indigeni di 3 anni sulla breve distanza, in 13 al via, chiari al gioco i favori per il numero 5 Urania B, alleata del numero 3 Ussaro Cab Si va allo stacco, stacco che vede di galoppo il numero 2 di Uniost, crea lieve intralcio al 5 di Urania B Che viene rimontata all'interno da Usta OP, però poi passa Mimmo Zanca e dunque al comando, la favorita della corsa Urania B nei confronti dell'1 Usta OP è partito bene, uno dei NOF con Adolfo Grasso e si è sistemato in terza posizione davanti a U6000 Poi Under the Sun, questi cavalli lungo la corda, mentre il treno esterno, ancora piuttosto lontano dalla testa, viene capitanato da Ultra Boy Che prova a risalire la corrente, dunque Urania B sta cadenzando ritmo, vediamo un po', primi 600 metri, abbastanza tranquilli per la favorita Che adesso viene raggiunta da Ultra Boy, sempre a seguire l'1 di Usta OP, mentre prova a farsi largo anche Uragano Bibo Cavalli che stanno percorrendo la piegata di destra, siamo circa a metà del percorso con Urania B battistrada, Usta OP in scia Ultra Boy per linee esterne, poi lungo la corda il 7 di Ultra NOF Cavalli che adesso sono più o meno ai 600 conclusivi, Urania B con Mimmo Zanca a spalle indietro Pare assolutamente padrona della situazione, la trascurata Usta OP che debutta sulla pista palmitana Con un curriculum per la verità ben poco appariscente, sta correndo oltre ogni attesa E mantiene la posizione in scia a Urania B, addirittura dà l'impressione Vito Cusimano di avere in mano la grossa sorpresa L'impressione è questa, staremo a vedere, più indietro uno dei NOF prova a reggere U6000 Ed eccoci alla resta d'arrivo, Urania B e Usta OP, e guardate un po' questa Usta OP Chi la poteva immaginare una cosa del genere, insiste, insiste e passa, passa Usta OP, che sorpresa Secondo Urania B, al terzo posto U6000, e beh, c'è stata davvero una vincitrice in attesa Usta OP, insediolo Vito Cusimano, il training è proprio di Mimmo Zanca La quota è 15,41, anche piuttosto bassa, devo dire, rispetto al suo curriculum davvero poco appariscente La netta favorita Urania B è stata sconfitta da un'avversaria in attesa in retta d'arrivo Più indietro, se non abbiamo visto male, il terzo posto dovrebbe essere del NOF U6000 Ma adesso andremo a rivedere nel replay Al primo posto dunque il NOF Usta OP, colori del signor Vincenzo Venezia Al secondo il 5 di Urania B, favorita della corsa E la terza piazza va appunto a U6000 Dunque 1, 5, 8, l'ordine d'arrivo naturalmente da confermare della seconda corsa di Palermo Grazie a tutti